allora e rieccomi dunque con altri prodotti come promesso da prima da finire ovvero terminati questa è la busta che li contiene dentro e qua c'è un prodotto per il genere della casa della Dexal incontri avvolgenti che chi se ne frega per il suo bel lavoro ecco qua questo è della Dexal mi è piaciuta molto anche se è un po' stucchevole come proprio ma non è male per niente la va anche come Lenore quasi quasi questo anche se a me Lenore non mi dispiace per niente affatto l'ho preso in casa l'ho comprato e l'ho già usato ed è questo questo è il Dexal e Lenore è un altro ovviamente ho finito due Dexal due Dexal oddio cosa ho bagnato qua non lo so comunque allora una e due due Dexal eccoli qui promozione fantastica che ve lo dico a fare vi piacciono e li ho finiti perché li adoro entrambe allora uno è alla camellia ambra bagno doccia e l'altro è il muschio bianco vedete non so cosa potete vedere ma questo è il muschio bianco eccolo qua questo è il camellia ambra e niente mi sono piaciuti e li ho voluti riacquistare ovviamente poi l'attenzione intimo top mi starà piaciuto ne ho comprato altri non come questo perché questo non mi ricordo ve l'ho comprato però allora questo è il 200 m di prodotto per un paio via di 12 mesi buono molto buono e basta mi è piaciuto ve lo consiglio se lo trovate acqua e sapone o sapone in profumeria o dovunque andate perché è davvero top questo prodotto poi allora dunque dunque ce ne altri si c'è questo tanto un verde SOS placca barriera protettiva anti placca con l'autorio cosmetico per l'igiene orale quotidiana top anche questa wow questi vanno via come il pane quindi stra buono fantastico pulisce bene e igienizza bene sia l'alto che la placca orale quindi top wow fantastico questo c'è nel 500 m di prodotto per un paio via di 12 mesi wow poi vado veloce perché non voglio annoiare poi sensodine sensodine dente friccio dente friccio stra buona anche questo fantastico venne da 75 m di prodotto e paolo non me lo ricordo ma non importa fa una bocca guardate io ho una bocca molto stretta e non so con i dettagli ho gengive e denti sensibilissimi perché già sapete la mia storia di denti già ve l'ho accontata e stra via ieri video e quindi questo dentifricio fa sì che io non senta quando bevo caldo o freddo e top mi trovo benissimo ora ho preso un altro che è della bio repair ve l'ho fatto vedere ieri il nuovo video della mia like della skin care routine ve lo leggo qui sotto nelle box informazioni e anche nelle schede di informazione quando andrò a montare sto video quindi questo è il sensodine come ve lo sto facendo vedere non lo so quello qua sensodine vedete buona top basta ragazzi questo era il video dei prodotti top e top flop adesso vedo il titolo ci si becca al prossimo video mettete un bel like il supporto al canale commentate con delle emoji o qualcosa di simile non lo so come volete fare voi ciao a presto un bacio